Ciao amici! Non avete conosciuto? Sono la vostra sefarrora, ma sta arrivando il cannevale! E io sono Alice, del paese delle meraviglie! Facciamo i licottini maccherini di cannevale! Abbiamo già preparato la patta polla e la rintendiamo con il matterello! Ecco fatto! Tattiamo la fulmina! Tattiamo il pungam e le paffaline! Mettiamo il nasino! Wow! Guardate come bellino! Facciamo anche la fulmina! Ecco fatto! Limitiamo il forno! Ecco le mie maccherine! Adesso le decoliamo! Usiamo la ghiaccia reale! Ecco le mie maccherine di cannevale! Grazie per il like! Un bacio! Grazie a Farrora! Buon cannevale! Yeah! Mamma mia! Mamma mia!